Con Roberto Ledda, direttore di gara, parliamo un attimo di questo rally di Como, di questa manifestazione. Prove, struttura e insomma anche un qualche, come dire, suggerimento per il pubblico. Allora, a livello di struttura, a livello di percorso è tutto uguale allo scorso anno, ad eccezione della prova all'Alpe Grande che verrà ripetuta tre volte anziché due volte. Come novità invece abbiamo, prima di tutto, il nuovo rally storico che è il primo anno che si disputa per cui un rally riservato proprio alle vetture storiche e che come percorso farà sia la tappa del venerdì, per cui le prove del triangolo lariano, sia invece quella del rally nazionale del sabato, per cui la Valcavarnia la farà divisa in due prove. Questo perché certe macchine soffrirebbero una prova così lunga, per cui è meglio dividerle. In totale fanno più di 90 chilometri di prove speciali, per cui sarà sicuramente una gran bella gara. Questo a livello dello storico. L'altra novità invece è che a Porlezza, l'amministrazione di Porlezza, c'è stata una massima disponibilità per cui ci ha consentito di fare il parco riordino sul lungo lago, annullando quello che è il loro mercato tradizionale del sabato, per poterci permettere di usufruire di quegli spazi. Poi in più avremo un parco assistenza riservato esclusivamente alle vetture del rally nazionale, parco assistenza che faremo nel parcheggio del campo sportivo di Porlezza, per cui dividiamo i due parchi assistenza per avere il maggior spazio possibile a disposizione delle vetture. Non solo, ma è previsto anche un'assistenza remota a Bellagio, per cui diciamo che ci stiamo muovendo fra le più belle località dell'Ario. Sì, assolutamente, assistenza remota a Bellagio, perché a Bellagio nella parte del triangolo ariano abbiamo due prove il venerdì che si ripetono subito. Allora, per dare la possibilità ai concorrenti in caso di maltempo di avere le gomme giuste, c'è questa assistenza remota. Sono solamente dieci minuti, ma il tempo necessario per sostituire eventualmente i pneumatici e montare la fanalleria, perché le ultime due prove si disputeranno, soprattutto per gli ultimi concorrenti, in condizioni di scarsa luminosità. Un'ultima tua considerazione è un suggerimento e raccomandazione al pubblico. Ma al pubblico le solite raccomandazioni, cioè seguire attentamente le avvertenze dei commissari di percorso che sono dislocati lungo le prove speciali, posizionarsi sempre in posizione elevata rispetto alla sede stradale, mai all'esterno delle curve e soprattutto anche quando si è in posizione elevata controllare che la strada non passi ulteriormente sopra, perché un'uscita di una vettura potrebbe poi farla scendere nella parte più bassa del percorso, per cui ascoltare attentamente quello che i commissari di percorso indicano al pubblico. Vogliamo sbilanciarci su qualcosa che arriverà per primo? Questo è molto molto difficile perché sappiamo bene che è una gara a Como considerata molto importante. A parte i discorsi del campionato WRC, tutti quelli che partecipano, i comaschi che partecipano, non ci tengono a vincere questa gara, per cui indipendentemente, come ho detto, da un campionato c'è un altro campionato interno in questa gara che è quello dei piloti locali. Con Avvocato Gelpi parliamo di questo 36esimo rally di Como, ma in realtà parliamo di tre gare differenti, insomma un bel appuntamento WRC nazionale e storico. Esatto, è un contenitore che però occuperà tutto il weekend. La gara principale ovviamente è il 36esimo rally di Como, che quest'anno è valido ancora per il WRC. Poi ci sarà un rally nazionale, quindi con un percorso un po' più ridotto rispetto al rally WRC. E poi per la prima volta un rally storico, con le vetture che hanno fatto la storia dei rally negli anni 70-80, che invece faranno l'intero percorso, esattamente come il WRC. Quindi è un ulteriore sforzo che l'Automobile Club di Como ha messo in campo per dare voce a tutti gli appassionati, sia delle auto moderne che delle auto storiche. Ecco, visto dal punto di vista dell'appassionato è un piatto veramente appetitoso. Vogliamo magari cominciare già a fare qualche nome delle prime iscrizioni che sono pervenute? Sì, sono state citate prima anche in conferenza stampa, a parte i nostri piloti che sono comunque ai vertici del rallyismo nazionale, Fontana, Porro, Re. Poi ci sono quelli che hanno sempre combattuto per vincere il campione italiano, quindi Sossella, altri, insomma. Nelle auto storiche c'è il campione europeo De Zanche, quindi è proprio emblematico dell'attenzione che questo rally ha suscitato anche in quell'ambiente. Diciamo una cosa, la tradizione conta moltissimo, per cui il nome del rally di Como già di per sé è una garanzia. Sì, sicuramente, è un rally che ha una sua storia, è un rally che si svolge su percorsi molto tecnici ed è per questo forse che ho apprezzato dai piloti. Io l'ho fatto tante volte, l'ho anche vinto qualche volta, l'ultimo nel 1990, però è un rally vero e proprio, con tutte le difficoltà che può avere un rally. Strade tortuose, continui cambi di ritmo, quindi mette a dura prova sia l'equipaggio che le vetture. Benissimo, una considerazione, questa volta da Presidente. Tanto lavoro vedo dietro, chi dobbiamo ringraziare? Ma sicuramente io ringrazio il direttore dell'automobile club, il dottor Giuseppe Pianura, ma attraverso lui tutti i nostri dipendenti, collaboratori e anche i collaboratori esterni, perché è una manifestazione che parte, praticamente finisce un'edizione e riparte già subito l'altra. C'è un grande lavoro da fare perché è una manifestazione che coinvolge tutta una serie di territori, di istituzioni e di interessi che sono molto diffuse e quindi vanno seguiti. Sono tanti aspetti che vanno seguiti e credo che la nostra sia veramente una squadra molto collaudata e quindi questo mi tranquillizza molto. Direttore, ormai la macchina per il 36esimo rally è partita. Vogliamo fare due considerazioni, magari diamo un po' l'idea dello sforzo, numero di persone impegnate, numero delle prove e come dire anche una raccomandazione al pubblico. Ripetiamo che è sempre utile. Sì, è un grande sforzo organizzativo perché abbiamo circa 250 commissari di percorso dislocati lungo il territorio, abbiamo il servizio dell'autoambulanza, il servizio del carriattrezzi, il servizio di decarcere e fericazione e altri servizi dei cronometristi, il servizio di trekking e di localizzazione satellitare delle auto. È tutta una macchina organizzativa che si muove e si modula a seconda delle esigenze della manifestazione. Siamo abbastanza collaudati. La raccomandazione che facciamo agli spettatori è quella di osservare le postazioni che sono state ben disegnate e allocate dai nostri uomini dell'allestimento perché sono postazioni in sicurezza e sono studiate apposta per evitare qualsiasi rischio per gli spettatori. Manca la barca, però i titoli rimangono, vero? Sì, quest'anno è andata veramente bene a tutta la squadra della federazione perché comunque abbiamo fatto un'ottima preparazione. Io mi sono un po' scrollato da dosso i quattro anni di un quarto posto che non riuscivo mai a concretizzare una medaglia. Quindi per quest'anno è andata bene. Adesso guardiamo il futuro, guardiamo il prossimo anno e andremo avanti così anno per anno. Ma il canottaggio lariano come lo vedi? Io lo vedo bene, stanno venendo fuori degli atleti e devo dire che anche il movimento di giovani c'è. Io personalmente cerco di fare più promozione possibile, più anche le giornate nelle scuole. Infatti il 18 ottobre c'è la giornata dello sport a menaggio, quindi parteciperò per fare promozione al canottaggio e ci saranno anche altri sport. Ma come mai hai lasciato da parte i remi, il seggiolino, la barca, il lago? È venuto qui dove sì, c'è un seggiolino da corsa magari, però mancano i remi ma bisogna tirare ugualmente. Sì, è una passione che ho fin da piccolo, che condivido con i miei amici e vabbè è sempre una cosa affascinante. Poi nelle nostre strade che sono piene di curve, piene di veramente di un bel posto che puoi andare in macchina. Conoscendo un po' il mondo del canottaggio e dell'automobilismo, hanno qualcosa che riunisce? La fatica, vero? Soprattutto nei rally. Sì, sì, la fatica è la parte fondamentale di questi due sport. Piacerebbe correre? Sì, come ho già detto, piacerebbe provare a fare da navigatore, perché così almeno ti godi più lo spettacolo. Bene, la proposta l'abbiamo lanciata, un qualche pilota che ha bisogno di un esperto di... poi il canottiere sa navigare, dai! Sì, 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 sì. Al di là della battuta. Sì, sì, ma speriamo dai, se qualche dubbio... Un pronostico, vincitore o è presto? No, un po' presto, sì, un attimo vedere un po' come arrivano tutti. Ma oltre al canottaggio e la passione per le auto, c'è anche un qualcos'altro, oltre a questa divisa? Sì, volevo anche ringraziare il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, della Polizia di Stato, che ci permette di fare questo sport e di andare avanti e portare avanti traguardi e risultati che sono molto soddisfacenti. Grazie. Ti rubo un minuto proprio per un ringraziamento a queste forze dell'ordine, che non sono solo le Fiamme Oro, ma ci sono anche altre specialità dell'esercito, dell'aviazione, che aiutano gli atleti. È un grande contributo, per cui penso che un ringraziamento a queste forze dell'ordine sia dovuto. Sì, sì, assolutamente. Grazie a loro lo sport italiano coltiva grandi campioni e porta grandi soddisfazioni per l'Italia.